Salve pubblico di InnerTalks, scusate i contrattempi tecnici, ma a causa di un po' di problemi con la banda larga, non vi diremo l'operatore per evitare class action, non siamo riusciti a mandare questo video in diretta, ma una chiacchierata che sto per fare con il professor Giovanni Sabino da Mosca, chiaramente verrà pubblicato online, quindi la vedrete o magari la state già vedendo perché mi state ascoltando in questo momento. Ciao Giovanni, voglio presentarti a chi ci sta seguendo, Giovanni Sabino è decente di storia contemporanea presso l'Istituto di Scienze Sociali dell'Accademia Russa dell'Economia Nazionale e del Servizio Pubblico a Mosca, vivi a Mosca da più di un decennio, lego dalla teolografia e ti occupi di nazioni e nazionalismi nella storia e nella società russa. Il motivo di questa conversazione perché ascolto, ascoltiamo molte notizie provenienti dalla Russia, che per noi è una terra un po' epica, ma dall'altra parte non riusciamo spesso a fare questi fact check, come si dice sulle news, e quindi diventa un po' complesso capire cosa sta accadendo. Prima di andare in un discorso un po' più serio e più approfondito ti faccio una domanda, ma è vero che girano le uni in strada per fare in modo che le persone non estano di casa? Ciao Alfredo, innanzitutto volevo ringraziarti per l'opportunità, perché comunque è sempre un piacere anche provare a raccontare quello che avviene qua. Io quando ho ricevuto la prima foto dei leoni, ho pensato perché proprio i leoni e non gli orsi? Generalmente nella Russia si dice che sono orsi balalaiche e vodka, alle volte le tre immagini si uniscono insieme con l'orso che sono la balalaica e beve vodka, che sarebbe un animale comunque più consono a queste latitudini. No, non ci sono i leoni, qualcuno ha avanzato anche sotto scherzo che probabilmente erano orsi travestiti da leoni, ma in realtà no. Si tratta di un caso classico, un mem, e questo è molto interessante da un certo punto di vista su come funziona l'informazione, su come vengono anche la percezione del mem, che è diventato non solo virale, termine ahimè in questo periodo probabilmente non molto adatto perché ci fa pensare ad altre cose, però come questo mem poi si è diventato in materia di informazione, c'è un gioco che poi alla fine è stato preso come una realtà. E in leoni dove si prende in un paese che comunque non ha latitudini africane. Ecco. Credo che non sia l'unica fake news circolata di questi tempi. Parlavamo prima del Arvidolac, comunque questa sorta di farmaco magico e camaturgico che pare in qualche modo sia stato il freno alla diffusione dell'epidemia in Russia, ma chiaramente come immaginavo, ho anche avuto modo di leggere in maniera più approfondita, però non attraverso i social, e anche questo si tratta di una grande bufala. Sì, allora, su questo è interessante vedere come è nato il meccanismo. Vi sono stati due italiani, uno di questi mi è proprio piaciuto perché nel suo profilo ha studiato presso l'Università della Strada, quindi come puoi immaginare abbiamo ben presente di quali soggetti che si tratta, che con la mascherina, con gli occhiali da sole si precipitano a procurarsi questo farmaco misterioso russo tenuto segreto e se lo procurano alla farmacia dell'aeroporto di sceremietro, anche l'aeroporto più grande che c'è a Mosca. Un po' strano per essere un farmaco segreto. L'arvidol è un farmaco che era stato già arvidolizzato nella tarda età sovietica, ma non ha passato arvidol, sì, o abidol, ma vi sono due denominazioni in commercio. E non ha mai passato però i test, non solo dell'Agenzia federale americana, ma anche i test dell'OMS, e nemmeno i test delle agenzie federali russe. Viene considerato una sorta di tamiflu, una cosa del genere, ma in realtà anche con minore efficacia. Essenzialmente l'arvidol non cura niente, come ha detto una mia amica medico russa, è un'altra che è una giornalista scientifica russa molto brava, Alexandra Barissova, tra l'altro vive in Italia, è come se tu prendessi una pillola di gesso. Quindi essenzialmente il gesso, come sappiamo, non ha proprietà curative. Però io credo che questo tipo di notizie riescano a diffondersi per una semplice ragione, perché ancora oggi vi è l'idea della frase attribuita a Churchill della Russia che è un mistero avvolto in un enigma e quindi di questo tipo c'è sempre l'idea per cui, ecco, si possono raccontare varie cose. È un approccio che ho definito in un mio post su Facebook orientalista. Perché orientalista? Perché qualcuno l'ha criticato, perché si ritiene che l'orientalismo sia soltanto a una dimensione, soltanto nella dimensione in cui viene sottovalutata la cultura di un paese, viene sostenuta come è come inferiore o d'altro. Io credo, e non è una mia idea, non è nulla di originale, vi sono parecchi studiosi che nel corso degli anni 90 e 2000 hanno affrontato l'argomento. Ne posso citare giusto alcuni, come Ivar Neumann, che ha scritto un libro meraviglioso in inglese sull'immagine della Russia in Europa e sull'immagine dell'Oriente in Russia. in Italia c'è stato Aldo Ferrari che ha svolto un lavoro pionieristico sull'orientalismo e la Russia. In realtà anche l'idea di un Oriente minaccioso, in questo caso l'Oriente e la Russia, di un Oriente comunque misterioso, comunque però considerato altro dall'Occidente, altro dall'Europa, ha sempre una certa presa sui massi media e secondo me in alcuni in un certo senso ce l'ha maggiormente ora rispetto a quella che era l'epoca sovietica. Perché durante l'epoca sovietica comunque il socialismo ha una provenienza europea e comunque l'Unione Sovietica si rifaceva a dei valori che venivano comunque considerati parte della storia europea, nonostante vi fossero tentativi di dire che comunque il comunismo si era affermato in quei paesi perché erano paesi arretrati, asiatici e altre corbellerie del genere. Oggi in realtà quello che ne vediamo è che vi è sempre un tentativo e su questo l'agenda combacia, combacia sia da parte di quelli che ritengono che la Russia sia davvero altra e non debba essere considerata come un paese europeo e basarsi sull'unicità di questo paese e quelli che la considerano in modo negativo come una landa barbara da sempre preda di dittatori e di altre cose del genere. Secondo me la verità è molto più complessa e oggettivamente questo tipo di visione che vi è sulla Russia permette la diffusione di false notizie. Mi permetto di raggiungerne un'altra, abbiamo parlato dei leoni, abbiamo parlato dell'Arbidol, credo che sia il caso di parlare anche dell'altra fake news circolata una decina di giorni fa di un discorso di Putin il quale avrebbe invitato l'Italia ad uscire dall'Unione Europea e a sostenerla. A parte questo discorso non è mai avvenuto. Non vi sono... È importante, mi aggancio a una domanda in maniera tale che provo a formulare un'unica domanda per la risposta. Se è anche vero in realtà che c'è stata questa diffusione, che sia stata colpa degli italiani in qualche modo, della diffusione del virus anche in Russia. Sì, ci arrivo su questa cosa. Finisco un attimo con questa storia su Putin perché è interessante. In realtà Putin non ha mai richiesto all'Italia di uscire dall'Unione Europea e soprattutto è da pazzi pensare che la Russia possa sostenere economicamente l'Italia. La Russia in questo momento fronteggia una crisi che ha due fronti. Uno è quello che accadrà col coronavirus. in cui casi qui cominciano a crescere. Ma l'altro, che è molto più importante in questo momento, è la crisi scaturita dal crollo del prezzo del petrolio. La Russia è un paese esportatore di petrolio, basa gran parte della sua economia su petrolio e gas e lo scenario pessimistico che prevedeva il governo russo era il prezzo del barile tra i 40 e i 35 dollari. Oggi siamo a 24 dollari. Quindi, che la Russia possa sostenere l'Italia fuori dall'Unione Europea, tutto può essere a questo mondo, ma insomma è una possibilità pari allo 0,0000001%. Riguardo a quelle che sono le fake news a proposito degli italiani diffusori del virus, cosa è successo qui. Che il primo paziente che è stato russo, che ha contratto il coronavirus, poi arriverò agli problemi che sono legati sulle diagnosi tra coronavirus, era tornato dall'Italia ed era tornato con un volo da Milano-Oreal Serio. Tra l'altro, come sappiamo, l'aeroporto di Oreal Serio, trovandosi in provincia di Bergamo, è proprio nel centro del focolaio. E questo ha permesso, a media decisamente schierati con il cremalino, ma che spesso agiscono anche per conto proprio perché hanno voglia di fare clickbiting, di fare audience, di cavalcare l'onda emozionale e emotiva, è cominciata ad esserci questa voce che siano stati assieme cinesi e italiani a diffondere il virus. In realtà, il 13 marzo è apparsa una notizia interessante. Rostat, la lista trussa, ha diffuso i dati delle polmoniti a gennaio di quest'anno. A Mosca soltanto, rispetto al 2019 c'è stato un aumento del 36% delle polmoniti. Da 5.000 casi, da 4.000 casi, si è passati a qualcosa come 6.000 casi. Vado un po' a memoria riguardo a questo. E ovviamente questi casi hanno acceso subito una lucina. Ma non è che sia un problema di diagnosi? Non è che vi è un problema di diagnostica? Non è che vi è un problema di impossibilità nel trovare il coronavirus? Su questo non c'è nulla di strano che è accaduto anche in Italia. Se ci ricordiamo, nel Lodigiano vi è stato un aumento delle diagnosi da polmoniti e da bronchiti tra dicembre e gennaio. Poi sappiamo tutto quello che è successo. Un'altra domanda che volevo farti. Credo che sia di due giorni fa la notizia nel primo avvento di lockdown in Russia e mi sembra in linea di massima per un po' le caratteristiche degli altri lockdown in stile che si stanno più o meno vedendo giorno dopo giorno nel resto del mondo. Quindi apertura di negozi alimentari, banche e farmacie, chiusura dei servizi non essenziali. Ma c'è un altro aspetto che invece volevo approfondire con te che credo sia molto importante proprio alla luce dell'enorme difficoltà sociale che sta avendo l'impatto appunto della diffusione del coronavirus sull'economia nazionale e mondiale. Leggevo che venivano in ogni caso previsti all'interno di queste disposizioni anche una tassa del 15% sui capitali che dalla Russia erano ascoltati all'estero per finanziare misure sociali anti-crisi e invece un'altra tassa del 13% sui interessi generati da investimenti finanziari per i capitali superiori a un milione di rubli. Io non so se questo sia vero, anche questo voglio chiederti, volevo anche capire nel caso in cui questa notizia fosse vera, questo provvedente fosse vero, che tipo di impatto potrebbe avere appunto per evitare di vedere scene come quelle che purtroppo stiamo vivendo e di vivere situazioni come quelle che soprattutto nel merito in Italia stanno iniziando a vivere, c'è famiglie che stanno praticamente andando al collasso economico e un governo che non riesce ancora ad intervenire propriamente, facendo addirittura richiedere da parecchie persone l'idea di un reddito di quarantena proprio per fare in modo quasi di socializzare da un punto di vista pragmatico e l'economia in questo momento sostanzialmente nero. Allora, inizialmente il lockdown non vi è, o meglio, c'è ma non viene chiamato lockdown. Mi spiego. Poi citato alcune delle misure che sono state prese, che sono state enunciate dal discorso di Putin di mercoledì scorso. E in questa vi era la scelta di dare ai russi una settimana di ferie pagate dal 28 marzo al 5 aprile. Oltre alla rinvio del referendum, che poi anche questa non si chiama referendum, ma votazione sulle modifiche costituzionali e altre misure. Iniziamo da questo. È come se vi fosse una sorta di timore nel dichiarare la quarantena, nell'enunciare questa parola, nell'enunciare la parola lockdown. Quindi cosa succede? La Russia è un paese un po' strano in questo, perché è una federazione e di questa sua struttura federale, cioè se ne ricorda, in momenti un pochino particolari. Per cui non vi sono disposizioni nazionali che vietano l'utilizzo del trasporto pubblico, la circolazione ferroviaria, la circolazione aerea, ok, o la chiusura dei ristoranti. Però nella città di Mosca, parliamo di una città di quasi 13 milioni di abitanti, verranno chiusi i caffè e i ristoranti, funzionerà soltanto l'asporto o la consegna. Sono stati già chiusi i parchi. Quando parliamo di parchi dobbiamo tenere presente che non è che parliamo della villa comunale, parliamo del parco Gorki, che è uno dei più grandi d'Europa, parliamo dei parchi che alle volte sono dei veri e propri boschi. Sono stati ridotti i trasporti, ma non sono stati chiusi perché il sindaco di Mosca, Serghii Sabbiani, che tra l'altro è uno di quelli che ha avuto più lungimiranza nella questione dell'epidemia, perché è stato uno dei primi a prendere dei provvedimenti, ha messo in quarantena forzata gli Over 65, facendo una cosa che De Luca potrebbe solo invidiarla. Ha disattivato le carte dei trasporti, ogni pensionato ha delle carte in cui ci sono delle riduzioni e vi sono alcune, non sono sconti, ma vi sono anche alcune forme di sostegno come il trasporto gratuito. Queste carte sono state disattivate per quanto riguarda i trasporti. Cioè tu vai lì, il tortmello non ti fa passare la carta. E queste misure sono però locali. In Canelia, una delle repubbliche autonome della federazione, il trasporto pubblico è stato chiuso. A Grosni, in Cecenia, controllano all'aeroporto se quella persona è residente o meno nella repubblica. Se non è residente viene rimandata indietro. E vi sono una serie di queste misure che vengono adottate soprattutto territorio nazionale. Vi sono anche degli scontri, perché il governatore di San Pietroburgo aveva chiesto di chiudere le chiese ortodosse. La chiesa ortodossa-lussa ha reagito in malo modo, sostenendo che il governatore stesse infrangendo i propri diritti costituzionali dei fedeli. Quindi vi sono anche qui alcune resistenze. Poi vi sono alcune azioni di quelle che sono le compagnie aeree. Ad esempio le ferrovie russe hanno ridotto molti trasporti, hanno ridotto molti collegamenti. La low cost Pavieda, che vola anche in Italia, ha interrotto tutti i collegamenti all'interno della Russia. Perché qual era l'idea? Comunque, quando si è stata proclamata questa settimana di vacanze, tutto il mondo è paese. Io non credo nell'esclusività dell'incoscienza di qualche migliaio di italiani. Secondo me sarebbe anche ora di smetterla un po' con questa idea per cui tutti sono colpevoli. Secondo me sono tante persone, sono milioni di persone che stanno a casa e che soffrono. Ora ci arriverò a questa parte sociale che secondo me è molto importante. E quindi ci sarà la reazione da un lato di quelli che volevano andare in vacanza, volevano tornare a casa perché lavorano fuori, lontano dai propri cari. E dall'altra di quelle aziende che volevano fare in modo di far continuare la produzione provando a trovare cavilli. Quindi queste misure a livello locale si sono trese indispensabili. Riguardo alle misure sociali, vi sarà una tassazione del 13% sui capitali che superano il milione di rubli che sono tenuti nelle banche e sarà una tassazione non sui capitali, mi autocorreggo, ma sarà su quelle che sono le percentuali ricavate dei capitali, sugli interessi. La politica di Putin. La politica di Putin, questa è una cosa molto interessante perché i sovranisti italiani la ignorano spesso, è una delle politiche finanziariamente ed economicamente più neoliberiste che esista in questo momento al mondo. In Russia vi è la flat tax al 13%, in Russia vi è comunque un'attenzione forte alla moneta, si evita. La flat tax al 15% significa che tutti i strati della popolazione, a prescindere da ciò che guadagnano, pagano il 15% al 13%. Io pago il 13% come i padroni di Rosneft e di Gazprom, insomma. Quindi più o meno la stessa tasa. Non vi è una progressività, vi è un controllo monetario molto forte, per cui non vi è l'idea che si dice in Italia spesso usciamo dall'euro e stampiamo moneta. La Russia non lo fa. La Russia non è stampa moneta, ok. Vi è comunque delle misure di Putin che sembrano a prima vista comunque generose e che comunque sono state una novità rispetto a quella che è la politica classe. È stato un passettino comunque in avanti, vi sono delle critiche. Vi è un appello di alcuni economisti, che mi ha colpito molto perché non sono economisti di scuola keynesiana o marxista, che chiedono il lockdown e sono paradossalmente più a sinistra dell'asso lombarda, perché capiscono oggettivamente il problema qual è, che vi è comunque un aumento dei contagi che può diventare esponenziale come in Italia e chiedono che l'economia russa si fermi, che vi siano delle forme di sostegno forte da parte del governo. Uno di questi economisti, in un'intervista che ho letto a Medusa, che è uno dei principali media critici verso Putin, non so se diceva più o meno così. Guardate che alla fine vi è il fondo sovrano nazionale, che è il fondo che la Russia utilizza come cuscinetto in caso di crisi, che ha una bella sommetta e più, vorrà dire che il napoletano, più un nero della mezzanotte, ma non può venire. Nel senso che siamo in un momento in cui oggettivamente, effettivamente, anche se la Russia potrebbe uscirne bene o meno, nel caso potesse uscirne bene o meno, comunque ti trovi con tutto il resto del mondo, Cina, Unione Europea, devastato dalla crisi economica. Quindi il ragionamento di questi economisti è utilizzare e incentivare comunque non solo il consumo, ma anche il finanziamento della popolazione, perché il problema che c'è nel meridione d'Italia, con redditi che comunque restano nell'ombra o che sono dovuti al lavoro nero, in parte di anche Russia. E quindi questa situazione è necessario regolarla in qualche modo. E quindi altri invece sostengono che Putin avrebbe dovuto fare come Trump, che ha fatto un'iniezione comunque grande, anche se da quello che ho letto, da quello che ho letto vi sono anche lì critiche forti su quanto avrebbe dovuto dare di più, però c'è un problema che l'economia russa non è l'economia americana. Quei soldi semplici, quelle capacità, quella ampiezza di manovra che ha la Casa Bianca, il cremellino non ce l'ha. Però il ragionamento degli economisti sul Fondo Solano Nazionale sono importanti. E questo potrebbe essere molto più utile, perché comunque Putin ha fornito delle misure, ma queste misure comunque rischiano di essere misure temporanee. Rischiano di essere misure che comunque vanno a sostenere l'imprenditoria, ma non vanno poi a vedere come possono agire sui dipendenti. Il reale del problema è che comunque i dipendenti, gli operai, gli impiegati sono comunque veicolo di contagio. In metropolitana non ci va il friccone, ci va la persona normale. La stessa identica critica che viene posta, che è stata posta in realtà con l'industria che in qualche modo si è quasi ribellata l'idea che alcune fabbriche, che tra l'altro a titolo personale non considerano essenziali, ma non occupano di governare il paese, non mi permette di mettere bocca. Ma sicuramente quello che dici tu è un po' strano, ma forse anche difficile da comprendere come si è abitato. In qualche modo viene fatta difficoltà l'idea di poter fare running per strada da soli, senza nessun contatto alle 5 del mattino, ma poi ci si possa stipare in metropolitana e in metropolitana non è che ci verra il cuore, come dicevi tu. Quindi anche qui un po' sembra che tutto il mondo sia paese. Tra l'altro credo che adesso Matteo Renzi ha un po' provocatoriamente detto adesso riapriamo le fabbriche perché dobbiamo un po' ritornare, perché stava quasi tenendo a mancare il soggetto titolato, forse la parte del mondo controindustriale, ed anche chi prima penso a movimenti di destra come la Lega di Salvini o quello di Giorgia Meloni, che erano veramente contrari alla chiusura, si sono un po' trovati nella condizione di dover dire che effettivamente ci sembra passo anche per noi. Però adesso il mondo controindustriale che immagino sia ben rappresentato anche lì in Russia... C'è, poi c'è Confindustria russa, quindi ovvio, che Confindustria russa che rappresenta gli industriali italiani, tra l'altro all'epoca anche, ma su questo ne parla anche l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, particolarmente in un certo momento vicino a Salvini, ma su questo meglio che non approfondiamo. Ecco, dopo l'incendio del tribunale che c'è stata, un'altra notizia abbastanza scioccante, sembra che alcune tipologie di guai non finiscano mai, soprattutto quando vi convolgono i temi così importanti come quelli della giustizia. Io volevo farti un'altra domanda che da comune cittadino quale mi ritengo, voglio informarmi, a parte questo nostro talk, dove posso informarmi in maniera, non voglio dire veritiera, ma semiveritiera su quello che accade nel paese che più ospita. Perché ho avuto molte difficoltà, anche provando appunto a cercare, verificare, fare parte checking. Ci sono testate o blog che, diciamo, accessibili anche a persone con me che non parlano appunto il russo? Allora, vi è parecchio l'inglese. Questo riesce comunque a dare qualche idea. In italiano, generalmente, parliamo di persone che coprono la Russia, ma la coprono da studiosi, da appassionati, come Giampiero Piletto, che è probabilmente il principale esperto di cultura sovietica e russa che c'è oggi in Italia, come Guido Carpi, che insegna letteratura russa all'orientale. Loro diranno, non è falsa modestia la mia, ma lo vedo anche per quello che consigliano me, che ci vivo. E poi vi sono media che comunque hanno versioni anche in inglese. Ah, qual è il problema? È che trovandoci in un mondo in cui non è nemmeno tanto il problema delle fake news, perché una questione come quella di Putin che invita l'Italia ad uscire dall'euro. Ragazzi, è una cosa che si può verificare anche non conoscendo, non dico l'inglese, ma nemmeno l'italiano, via. È una cosa così fantapolitica che... È intanto però una notizia di vita circolare, questa è la preoccupazione. Sì, 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 ma perché molti, perché molti purtroppo, purtroppo, questo sarebbe un... probabilmente c'è chi lo studia, però vi sarebbe interessante capire come funzionano l'emotività, i social network, il panico e la condivisione di notizie. Secondo me vi è una sorta di chiave di lettura importante su questo, su come vengono percepite alcune notizie e perché vengono pubblicate. È strano, ora dirò una cosa molto libresca forse, però ancora oggi resta attuale il libricino scritto da Mark Block sulle false notizie in tempo di guerra. Lui si riferiva alla propria esperienza durante la Prima Guerra Mondiale al fronte francese, però continua ad essere attuale su questo. Tutto sommato, se gli si fa la tara è un pochino quello che viviamo noi quotidianamente e che viviamo in un momento di crisi. Come informarsi? Allora, Medusa, che è questo portale di informazione, ha comunque un servizio in inglese che è abbastanza buono. Il reale problema di tutte le notizie è che le notizie vanno fatte alla tara, perché comunque vi ho un grosso rumore di fondo. Il rumore di fondo è così forte che spesso noi non è che abbiamo un problema di poche notizie dalla Russia o in generale dal resto del mondo e che forse ne abbiamo così tante che a un certo punto diventa difficile orientarsi all'interno di questo tipo, in questo magma che vediamo di terabyte, di parole, di considerazioni ed altre cose. Vi è il The Moscow Times che è in inglese e che copre la città di mosca e che generalmente è affidabile e dà spazio a tutti i tipi di voce. Ora dirò qualcosa di strano, probabilmente a Jacopo Jacoboni della stampa, che è famoso per le sue fake news sulla Russia, non farà molto piacere, però negli ultimi giorni a coprire molto bene l'emergenza con il coronavirus in Russia ed è una cosa di cui mi lascia molto perplesso perché ho bassa stima del lavoro di questa emittente e Russia Today. Russia Today che è veramente non solo la propaganda del cremolino, ma è anche una propaganda abbastanza rozza, abbastanza dozzinale. Però tutto sommato, su riguardo, io li ho visti in russo, ma da quello che so hanno i sottotitoli in inglese, i documentari sul coronavirus in Russia sono molto buoni e tra l'altro, questo gli va dato atto, sono stati i primi ad ospitare assieme al servizio della BBC che si occupa della Russia anche, che però è in russo, però molte volte ha anche gran parte degli articoli in inglese, che hanno ospitato l'intervista al primario dell'ospedale a Comunarca. Comunarca è un sobborgo di Mosca dove è stato aperto un ospedale dedicato ai malati di coronavirus. E il primario dell'ospedale ha avuto un ruolo importante. Ha avuto un ruolo importante perché sin da subito ha cominciato a dire guardate la situazione potrebbe peggiorare e ha avuto il merito e l'onestà intellettuale di dire a Putin martedì scorso, presidente, qui si va verso lo scenario italiano. E probabilmente qualcuno sostiene che sia stato comunque quella visita e l'autorevolezza di questo medico che in poche parole semplici e non banali ha spiegato al presidente, ma prima ancora ha spiegato a migliaia di persone, ha deciso addirittura di aprire un canale su Telegram. Cioè lui che cosa ha fatto? Ha aperto la chat che aveva con i propri colleghi per dire ci sono troppe false notizie. E false notizie ne circolano. Io stamattina ho ricevuto una falsa notizia da una tizia che mi ha mandato un video di una supposta biologa che poi in realtà è stata, ha ricevuto anche il premio Vral, Vral in russo il passato del verbo Vrat, mentire, il premio menzogna dell'Accademia Russa delle Scienze, perché è un premio che viene dato a quelli che sono tutti questi cialtroni, fantascientifici e altre cose, perché questa biologa ad esempio ha sostenuto in questo video che per sconfiggere il virus bisogna bere la soda con un po' d'acqua. E così si può scoprire. Questa signora stamattina in un messaggio su Facebook ha insistito affinché io lo mandassi a quelli che erano, alle autorità italiane perché dovevano prendere questa misura. Quando le ho mandato poi link che diceva che questa signora in realtà era una cialtrona, era una bugiardo che ha cominciato a fare storie dicendo che poi non bisogna credere alle notizie degli anni. Però io immagino che sia abbastanza complesso per un Giovanni Savino che dice di no, ci sarà qualcun altro che invece possibilmente certe notizie le fa circolare, altrimenti poco riuscire a comprendere come vai tanto di non vero viene a galla. È vero, però su questo dipende anche dalla coscienza della gente. Io non sono un medico e non ho ambizioni ad esserlo. E secondo me, poiché queste fake news comunque si basano sull'emotività, bisogna sconfiggerle su due piani. Uno è il piano quello scientifico nettamente e però su quello lo devono fare quelli che ne capiscono di queste cose. L'altro è sul piano emotivo. A un certo punto quando questa signora cominciò ad insistere e ho detto ma lei non si vergogna. In Italia ci sono migliaia di medici che rischiano la vita, migliaia di infermieri. Ci sono tre istituti in Italia che stanno combattendo in prima fine, sono istituti di ricerca, sono i più importanti istituti di ricerca in Europa, che stanno combattendo per trovare una cura a migliaia di pazienti. Allora, visto che comunque loro fanno forza sull'emotività, purtroppo, purtroppo, perché a me piacerebbe che ci fosse sempre una sorta di razionalità nelle discussioni che riguardano la cosa pubblica, purtroppo bisogna fare forza sull'emotività, bisogna farli vergognare, bisogna farli vergognare. Questa è una proposta che mi accoglierebbe molto volentieri, perché in realtà non si comprende la gravità, soprattutto in queste situazioni. Spero che quello che stai bevendo, diciamo, non è un caffè napoletano che... Da quanto tempo che manchi da Napoli? È un kimbo, non voglio fare pubblicità, ma io ho il rifornimento di kimbo e passa l'acqua, quindi... Quanto tempo che manchi da Napoli? Allora, io in realtà sono capitato nella quarantena, perché io sono tornato da Napoli l'8 marzo. E a Mosca era stata già proclamata la quarantena per chi rientrava dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, dalla Cina e dalla Corea del Sud. Poi la quarantena è stata ampliata a chiunque tornasse dall'Unione Europea. Quindi io l'8 marzo sono arrivato a Scenei Meteva, all'aeroporto, mi è stata... Sono stato accolto... Quando mi sono presentato al controllo passaporti, appena hanno visto il logo italiano, lo stellone repubblicano, hanno avuto un po' di... Hanno chiuso il controllo passaporti, l'hanno riaperto con i guanti, la mascherina, eccetera. Poi vi era già il personale medico che mi ha visitato, mi ha mandato a casa, e ho dovuto compilare un modulo con tutti i miei riferimenti. Mi hanno fotografato, perché comunque queste fotografie venivano utilizzate per il riconoscimento facciale, per vedere se nel caso le telecamere che a Mosca ci sono individuassero, potevano individuare qualcuno che stava infrangendo la quarantena. E dal 9 marzo al 22 io sono stato in casa seguendo il reggimento di quarantena. Quindi sei stato in quarantena facciale, ma non ti hanno fatto tamponi. No, mi hanno fatto tamponi, ho avuto due tamponi, hanno preso il tampone a me e mia moglie, non l'hanno preso alle mie figlie, non so per quale motivo. I risultati del tampone non li abbiamo ricevuti, però... Proprio spesso che non li hanno portati a comunarca, cioè non vi hanno portato agli infettivi, quindi state bene. E oggettivamente così. Io il 22 ho chiuso il foglio di quarantena, sono uscito, ed è quello che è interessante, il 22 è praticamente sei giorni fa. Sembra quasi passato un secolo, perché poi sono dopo questo, poiché la didattica universitaria e scolastica è passata tutto online, quindi io lavoro da casa. Quando sono uscito domenica, passando per tutta questa macchinosa procedura burocratica che prevede la chiusura della quarantena, sono rimasto colpito da quanta gente ci fosse in giro e senza mascherine. Già ieri, che sono dovuto andare a sbrigare alcune altre commissioni burocratiche, sono andato a comprare da mangiare per i gatti e mi ha colpito che in un negozio che di solito è totalmente deserto, c'era la fila e c'erano comunque persone in mascherina. Anche io ho la mascherina, quindi così... Non sono aumentati i prezzi a disfigurare. Comincia a crescere la consapevolezza. I prezzi per ora non sono aumentati, ma potrebbe esserci questa cosa, anche perché è legata al prezzo del petrolio, che scendendo comunque così. Comunque la Russia ha anche un problema, c'è il mosca, tu le verdure le devi importare, la frutta la devi importare, non è che hai banane o pomodori che crescono tutto l'anno, poi le banane non crescono proprio, però i pomodori alle volte in estate ci sono. Però, e quindi comunque devi importare, quindi ovviamente questo ha un costo. Quello che è successo, è già cominciato due settimane fa, poi si è ripetuto a scaglioni e ancora oggi ci sono degli scaffali vuoti in non pochi supermercati, e è comunque una corsa e bene di prima necessità. La carta igienica, che è il simbolo mondiale di questa crisi. Ma stranne che in Italia, non dire, ma qui fortunatamente se ne trova ancora abbastanza. Tipi di pasta, di cereali a lunga conservazione, ok, anche qui si trovano poco. Bisogna stare attenti. Tra l'altro a Mosca è molto sviluppato il servizio del delivery, anche a livello di spesa, e già due settimane fa vi sono stati i primi problemi perché alcuni servizi hanno voluto mettere un tetto minimo di spesa per la consegna, si sono allungati i tempi. Gli erano servizi che consegnavano alle volte in un'ora. I tempi si sono allungati fino a otto ore. In alcuni casi di giorni, addirittura chi ordinava la domenica, alle volte si vedeva ricevere l'ordine il mercoledì o il giovedì. Quindi comunque anche qui vi sono stati casi del genere. E ve ne saranno. Tra l'altro, mascherine non se ne trovano in farmacia. Quindi, pure su questo. Però abbiamo una fiorente industria di maschere di questo tipo. Io questa l'ho presa perché era troppo divertente. Comunque con i peperoncini alla fine speriamo che facciano da corno. Vedo che non hai perso lo spirito superstizioso della tua città. È una cosa importante. Giovanni, io ti ringrazio innanzitutto per aver inaugurato questo ciclo di talk con professionisti, docenti, cittadini, residenti all'estero che in qualche modo posso darci appunto una varietà di informazioni in loco nella buona linea del gonzo giornalismo che tanto purtroppo ci manca. E spero di risentirti con notizie fresche, spero notizie positive. Ma in ogni caso appunto volevo ringraziarti e farti un bocco al lupo sperando diciamo di poter ritornare in visita a Napoli quanto prima. Crepi e quello che volevo dire volevo ringraziare te e volevo ringraziare tutti quelli che ti hanno dato vita per il creativo in subcala con sonora e di difesa d'autore per la possibilità chiunque voglia può sempre contattarmi sui social e ovviamente chiaro se mi chiedete quante tigri dell'amour sono restate in vita probabilmente non vi so rispondere se me lo chiedete alle 3 di notte di sicuro mi posso mandare a quel paese però comunque provano sempre a rispondervi. Ecco. Va bene grazie Giovanni Grazie a voi Ciao Ciao